Andrea Salvalaggio è un giovane lecchese, ideatore di una applicazione per scoprire le bellezze del lago di Como, in particolare dei musei. Ideatore appunto di un'applicazione che si chiama Storia di Lago, lanciata recentissimamente, siamo oggi qui per scoprirla insieme. Allora Andrea, di che cosa si tratta questa applicazione? Allora, questa è un'applicazione, è una web app che ha lo scopo di valorizzare il patrimonio dei musei e creare un network tra i musei. Quindi abbiamo qua, questo è il territorio, questo è il nostro territorio, questi sono i tre musei, sono il museo della seta di Como, il museo del ciclismo Dona del Ghisallo e il museo della barca lariana. Qua siamo noi, siamo già localizzati, qua c'è, in pratica questa è una funzione, il museo diffuso e noi andando qua possiamo aprire e vedere Pescarenico. A questo punto noi, recandoci effettivamente nel luogo, possiamo aprire un approfondimento che ci spiega in questo caso Pescarenico, Lucia e l'addio ai monti, che è legato poi al museo della barca lariana, in cui hanno conservato una Lucia in pratica, una vera Lucia. Quindi un'applicazione che di fatto si struttura intorno a questi tre musei e che però poi fa da link e insomma connette tutte le altre realtà, anche quelle le chiesi, come stavi dicendo, rispetto a Pescarenico, che insomma si collegano, perché è tutto un po' collegato intorno al lago. Esatto, esatto. In pratica dentro i musei c'è un'esperienza, dentro l'esperienza si scoprono i reperti, questi reperti hanno un legame tra di loro, perché appunto nel territorio tutto si lega, hanno in comune il lago, tutto il nostro territorio. Questo è un network in cui i musei in questo momento sono nella provincia di Como, però ci sono anche posti nella provincia di Lecco e noi auspicchiamo anche in futuro che un museo che voglia entrare in questo network di storie di lago, appunto, possa anche entrare a far parte di lui e quindi avere la sua esperienza di game all'interno e fare parte di questo network nel nostro territorio. Ecco, hai detto esperienza di game, in particolar modo si tratta insomma della seconda direttiva su cui si è basato questo progetto, diciamo, e che cosa consiste? Allora, vi faccio un esempio al volo. In pratica dentro il museo c'è un personaggio che ci guida alla scoperta dei reperti. In questo momento sta parlando dell'Aura Primo, che è un bellissimo reperto conservato al Museo della Barca L'Ariana, che è una barca con cui Mario Verga ha fatto il record di velocità ancora a metà novecento. Ci sono degli approfondimenti da archivio, il caratter ci aiuta e ci porta in questi approfondimenti da archivio, che sono dei video in cui ci parlo, degli intervisti ai direttori, abbiamo intervistato Beppe Saronni per il Museo del Ciclismo ad esempio. Qua ci sono un sacco di articoli di giornale molto interessanti, noi proseguiamo e abbiamo anche per ogni reperto un piccolo game, perché c'è una storia, c'è un'avventura, e allora qua dobbiamo selezionare qual è la forma vera dello scafo che abbiamo davanti, che ha piccole differenze, però noi selezioniamo quella corretta e andiamo avanti nell'esperienza. E quindi un game che ci accompagna, che rende accantivante la visita, ma anche un'applicazione che può renderla più profonda, rendendo disponibili i contenuti da archivio. Ecco, contenuti che magari sono più sfuggevoli se proposti in altra forma, naturalmente. Andrea, ci hai fatto vedere, era già aperta l'applicazione sul telefono, però per chi non avesse ancora l'applicazione, come si fa, quali sono gli aspetti pratici per poter scaricare questa applicazione? Allora, è molto semplice, basta andare sul sito, non richiede di essere scaricata, l'abbiamo fatta apposta per essere semplice e accessibile a tutti. è storiedilago.it e c'è la guida e poi vi mettiamo anche sotto il link, comunque sotto il servizio. Allora, grazie, grazie Andrea Salvalaggio per averci illustrato questa applicazione, lo ricordiamo, si chiama Storie di Lago. Grazie. Grazie a voi.